capire se sente la tua mancanza è fondamentale per renderti conto se è coinvolto con te e per stimolare la tua mancanza in modo tale che si coinvolga ancora di più con te come possiamo fare tutto questo intanto dobbiamo tenere presente questo che se sente la nostra mancanza è di fondamentale importanza perché vuol dire che ci ha introiettati siamo diventati simboli simbolo e tutto ciò che ci coinvolge o attraverso il piacere o attraverso la sofferenza quando noi siamo diventati simboli per una persona questa persona inizierà a pensarci al pena sveglio e continuerà a spot a pensarci durante la giornata ma saremo anche l'ultimo pensiero prima di andare a dormire quindi nel momento in cui diventiamo simboli abbiamo un forte ascendente un forte potenziale di coinvolgimento nei confronti di questa persona e questa persona ovviamente sentirà la nostra mancanza avrà l'esigenza di vederci avrà l'esigenza di stare di passare del tempo con noi e nel momento in cui noi tireremo un po l'elastico gli stimoleremo il desiderio e quindi questo senso di vuoto se vogliamo questo senso di abbandono questo senso di mancanza lui si innamora o lei si innamorerà ancora di più di noi come facciamo a capire se sente la nostra mancanza e come stimolargliela allora per capire se sente la nostra mancanza dobbiamo mettere dei vincoli al nostro possesso mettere diciamo degli ostacoli ad esempio gli ostacoli possono essere di diversa natura ad esempio a un certo punto magari smetto di cercare una persona e vedo che cosa cosa fa questa persona prima gli telefonavo lo chiamavo lo messaggiavo che ne so 3 4 volte al giorno 2 non importa quanto fosse smetto di fare questo e vedo dall'altra parte cosa succede se dall'altra parte c'è un inseguimento cioè inizia a cercarmi a messaggiarmi a dire ma dove sei ma cosa fai vuol dire che comunque nel momento in cui io mi allontano questa persona tende a vivere l'abbandono e si coinvolge di più allora diciamo così dovrò in qualche modo dare delle giustificazioni logiche al fatto che mi sono allontanato e ovviamente farmi nuovo vivo farmi nuovo presente essere nuovo presente e quando sarò di nuovo presente avrò però acquistato un po di coinvolgimento in più per l'abbandono che gli ho fatto vivere perché la sua parte emotiva va in questo caso a nutrirsi di abbandono se invece io noto che nel momento in cui mi allontano dall'altra parte non succede nulla cioè l'altra persona ne mi cerca ne fa niente di diverso allora devo prendere atto che non sta sentendo la mancanza in quel momento è una persona che probabilmente non si vive l'abbandono e devo capire quindi che cosa fare devo capire quali altre emozioni andargli a fare vivere fondamentalmente per poi ritornare indietro e riprovare l'allontanamento però devo prendere atto che non è coinvolto con me che non sente la mia mancanza in quel preciso momento allora devo cambiare modificare il mio comportamento la mia relazione con questa persona perché se non la modifico e continuo a fare le stesse cose che ho fatto otterrò sempre gli stessi risultati non riuscirò a produrre più coinvolgimento magari non sente la mancanza se mi allontano ma magari può sentire l'influenza di un antagonista o di un antagonista cioè di un uomo o di una donna che inizia a corteggiarmi per cui devo provare a introdurre un antagonista magari quando è presente lui l'antagonista posso farglielo presumere nel senso di raccontarglielo è molto più efficace se lo vede direttamente e quindi dopo che avrò introdotto l'antagonista se mi allontano che succede anche lì faccio un test per vedere se sente la mia mancanza se lui quando mi allontano sente la mia mancanza significa che è sensibile all'antagonista e allora ho un altro strumento insomma devo agire in questo modo poi ce ne sono altre cose posso far vivere il rifiuto la disistima il desiderio ci sono tante situazioni che io posso somministrare osservare il tipo di risposte che ottengo e dal tipo di risposte che ottengo capire come agire per fargli sentire la mancanza perché so che nel momento in cui gli faccio sentire la mancanza si innamora si coinvolge ancora di più di me e tutto questo ovviamente finalizzata un obiettivo l'obiettivo che voglio raggiungere nei confronti di questa persona bene per questo video è tutto iscriviti al canale seguimi anche sul blog seduzionevip.com ciao